E' morto a San Severino Marche, in provincia di Macerata, stroncato da un male incurabile, Pasquale Salemi, 66 anni di Porto Empedocle, detto maraschino, come il liquore che amava tanto bere, primo pentito della mafia agrigentina che spianò la strada a una lunga stagione di collaboratori di giustizia. Salemi è stato tumulato a Porto Empedocle dopo un semplice riservato a rito funebre costituito da una benedizione nel cimitero davanti appunto a pochi intimi. Nessun manifesto funebre, a differenza di quanto avvenne nell'ormai lontano 1997, quando l'intera città, dopo la diffusione della notizia della collaborazione con la giustizia, fu ricoperta di annunci funebri riportanti la morte di maraschino come messaggio intimidatorio. Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Messina, Ubirgisi, a Real Monte, maraschino inizia a traballare. Dissidi sopraggiunti con l'allora capomafia Luigi Putrone, che lo posò, hanno accelerato la sua collaborazione con la giustizia.